Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha deciso, respingendo l'appello della Procura di Locri, contro il rigetto del GIP sulla richiesta di misura cautelare a carico dell'ex sindaco di Riace, Domenico Lucano, e degli altri nove imputati del processo Xenia. Motivazioni nella quale i giudici hanno parlato di inconsistenza del quadro indiziario. Le ipotesi sono fondate su elementi congetturali e presuntivi, insomma, inattenibilità dei testi, calcoli errati e in sussistenza del pericolo di reiterazione del reato. Intervene anche il segretario nazionale responsabile dell'immigrazione del Partito di Rifondazione Comunista, Acerbo e Galieni, puntando il dito contro il Ministero degli Interni con Meniti e poi con Salvini, che scrivono hanno stroncato l'esperienza di Riace per ragioni politiche. Questo massacro si è unito con la peggiore destra razzista e chiedono il Movimento 5 Stelle, che dovrebbe chiedere scusa pubblicamente per gli attacchi contro Mimmo Lucano. Insomma, Rifondazione Comunista si schiera. Intanto prosegue il processo. L'ultimo test, il colonnello Scarperli, ha parlato dell'utilizzo dei fondi dell'accoglienza e in particolare la distrazione di diverse cifre per usi diversi, per esempio il concerto di Vecchioni, in onore della festa dei Santi Medici Cosme e Damiano, che è stato pagato con i soldi delle associazioni, ovvero quelle destinate all'accoglienza su indicazione di Lucano. E poi le casette, che dovevano essere utilizzate per gli immigrati, esattamente nove, venivano utilizzate dagli amici dell'ex sindaco, come è capitato anche in occasione di un festival organizzato a Riace. Insomma, il processo Xenia va avanti, ma con tante polemiche.